Roberto Stronchi è il capitano del Palio di Porto Ercole, allora nonostante le difficoltà anche negli ultimi momenti siamo giunti alla benedizione del Palio. Sì, finalmente siamo giunti alla nostra prima emozionante, diciamo così... Per esempio è un momento toccante per quanto riguarda la benedizione del nostro Stendardo che quest'anno è stato fatto in maniera proprio accurata per omaggiare i nostri caduti marinai durante il loro lavoro di pesca che a causa delle mine che si trovavano nel mare hanno avuto purtroppo la cattiva sorte di pescarle e nello stesso tempo scoppiare provocando 12 vittime ai porti alcolesi. Senti Roberto, ormai è il secondo anno che tu sei il capitano del Palio ma realmente quali sono i veri problemi di questo quasi Palio che sembra abbia l'influenza un giorno e un giorno no? Guarda, quest'anno abbiamo avuto dei grossi problemi con questi ragazzi questi ragazzi che stranamente non si sono voluti avvicinare al Palio perché diciamo così erano un po' condizionali dal fatto che il super equipaggio che per tre anni di seguito ha vinto la regata Remeda, cioè l'editorio della Rocca e poi quando si è saputo che il rione della Rocca non guareggiava più per problemi suoi o personali di alcuni vocatori è subentata la stella che anche lei ha voluto fare un equipaggio forte e purtroppo i ragazzi che io ho tanto caldeggiato nel tempo di venire, di accostarsi a noi perché doveva essere una sfida loro, una competizione loro che avrebbe ravvivato tutto quanto l'entourage niente, appena ho saputo che questo equipaggio forte sulla carta che poi sai forte è un modo di dire, però può succedere sempre qualcosa e niente, c'è stato grossi problemi per formare quattro equipaggi e finalmente a forza di raccomandazioni, di preghiere perché veramente abbiamo dovuto preghiare siamo riusciti a mettere i quattro armi in mare Eppure Roberto, questa è una delle manifestazioni in un posto di mare come questo che lancia un po' la stagione in fondo anche questi ragazzi vivono di questo perché allora non devono sentire questa cosa? È vero, hai proprio azzeccato le parole giuste non si accostano secondo me perché purtroppo c'è troppo menefreghismo c'è troppa voglia di non sacrificarsi c'è troppo benessere nel quanto riguarda l'educazione che è stata da questi figli io non le capisco perché mi trovo delle volte a parlare con loro e sinceramente fanno dei discorsi perché io non ancora riesco a capire che cosa vogliono Io mi ricordo quando ero ragazzo la mia mira maggiore era quella di farmi una casa e avevo il desiderio di farmi una casa perché avevo vissuto con i miei genitori in un ambiente che non era consono a noi e questi invece non hanno nessun ideale penso soltanto a divertirsi, a passare la serata bevendo insieme alle amici ubriacandosi oppure facendo altre cose ancora più gravi e non si vogliono sacrificare, lottare per un qualcosa che poi nella vita dà soddisfazione una vittoria a un palio, ti riempie di forza, di energia niente, non riesco a capirle queste cose speriamo che nonostante tutto ci sia una svolta guarda la volontà nostra quest'anno non è proprio mancata anzi ci abbiamo pregato come ti ho detto più di un vogatore ad accostarsi a noi molti mi hanno promesso che l'anno prossimo sarà molto diverso speriamo, io ci spero perché i ragazzi ci sono la volontà nostra di avviarli a questa competizione che deve essere soltanto loro loro perché poter dare vita a un palio veramente combattuto per dimostrare la forza, la tecnica, tutte queste cose qui speriamo che il piano prossimo ci sono Priscilla Schiano, vice sindaco del Comune di Monte Argentario rappresenta l'amministrazione comunale al momento in cui viene benedetto il palio di Porto Ercole oggi abbiamo questo impegno importante per Porto Ercole verrà fatto il palio marinaro nel clima di festa per il nostro patrono di Porto Ercole Sant'Erasmo quindi la comunità si stringe intorno a queste festività a questi bellissimi valori e allacciando anche questa bellissima manifestazione sportiva perché noi argentarini siamo particolarmente legati al palio marinario quindi questa benedizione sarà per loro un motivo di vittoria per avere questo standard ecco l'amministrazione del Comune di Monte Argentario sta inventando molto su queste manifestazioni non parliamo di quello di Porto Santo Stefano ma adesso anche quello di Porto Ercole certo perché queste sono le nostre tradizioni e noi ci teniamo particolarmente affinché le tradizioni territoriali abbiano ovviamente l'apporto del Comune dell'amministrazione, il supporto per essere portati avanti perché nel tempo purtroppo capita che alcune tradizioni vengano perse noi sul palio non vogliamo assolutamente che questa cosa possa accadere su Porto Ercole in questi anni abbiamo dato fortemente un'impronte un aiuto da parte dell'amministrazione e vedo che da parte della comunità c'è maggiore entusiasmo maggiore coinvolgimento per cui penso che sia stata apprezzata anche da loro questo impegno nostro ovviamente per la comunità territoriale, per Porto Ercole anche perché per Porto Ercole assieme ai Pirati questa è una delle manifestazioni che aprono la stagione turistica che sembra sia partita alla grande sì, abbiamo avuto prima i Pirati che ogni anno è sempre più bella quindi se posso perderci pochi secondi anche quest'anno hanno dato prova di bravura nonostante l'inclemenza del tempo? eh sì, purtroppo non siamo stati fortunati con il tempo comunque sono andati perché il lavoro dietro di ogni ciurma specialmente Porto Ercole è un lavoro che inizia durante l'anno ogni anno hanno delle figure sempre più belle sempre più affascinanti, più coinvolgenti ma lo stesso scenario che avviene in serata è veramente da vedere quindi al pubblico dico venite a vedere almeno una volta i Pirati a Porto Ercole perché ne vale veramente una pena e poi io penso una volta visti ci si torna ogni anno Alessandro Roncolini delegato al Palio di Porto Ercole per il Comune di Monte Argentario tante difficoltà una dietro l'altra ma finalmente ci siamo ora ci sarà la benedizione dello Stendardo ci siamo quasi nel senso che oggi è un'altra tappa importante per l'avvicinamento al 3 giugno dove ci saranno la gara del Paliotto e del Palio per la 41esima edizione della regata dei quattro forti di Porto Ercole hanno difficoltoso, con molte difficoltà d'altra parte il Palio richiede sempre più abnegazione, preparazione, tempo eccetera i ragazzi sono sempre più impegnati, il lavoro, le difficoltà eccetera e quindi è difficile sempre un pochino coniugare per il futuro dovranno essere fatte delle modifiche Ecco, cosa si può fare? Ma sicuramente venire incontro a quelli che sono i rioni nella formazione degli equipaggi e allentare un po' le regole restrittive sul discorso residenza ma questo è un discorso che poi si farà dall'11 di giugno in poi quando ci sarà, chissà, un nuovo delegato, una nuova amministrazione, vedremo Anche perché, come dicevo prima con Roberto Stronchi in fondo, questi sono tutti ragazzi che vivono di turismo e il Palio è una delle prime manifestazioni turistiche di Porto Ercole quindi dovrebbero avere una motivazione in più La battuta è sempre quella, il Palio invece di esserci a Santo Stefano il 15 d'agosto e a Porto Ercole il 3 giugno ci fosse il 4 novembre e il 3 dicembre sarebbe molto più facile sicuramente mettere insieme gli equipaggi come hai detto te, si vive di turismo quindi il problema fondamentalmente è dato dal fatto che i ragazzi, nelle difficoltà del lavoro che ci sono approfittano della stagione e quindi il Palio avviene in stagione e molto spesso le due cose non si coniugano era stata fatta quando abbiamo fatto lo statuto nuovo queste regole restrittive dei due anni di residenza minimo necessari per partecipare a Santo Stefano ce ne sono dieci di anni anche discontinui sappiamo che non è facile vediamo insomma, ci lavoreremo Allora, per Alessandro Roncollini questo potrebbe essere l'ultimo momento come delegato del Palio del Comune di Monte Argentario a Porto Ercole che cosa pensi di aver dato e che cosa lasci? Tanto diciamo che sicuramente è il penultimo perché poi l'ultimo sarà il 3 giugno diciamo come momento ufficiale ma io ho tre anni da delegato in cui ringrazio ovviamente il sindaco per avermi dato questa mansione penso di aver dato molto al Palio di Porto Ercole sono riuscito diciamo a ricreare quell'entusiasmo a far ritornare il paese imbandierato i rioni che si combattono la spilata, tutta una serie di cose che erano andate un po' scemando la manifestazione è diventata manifestazione ufficiale del Comune di Monte Argentario come i pirati, come il Palio di Santo Stefano cioè come tutta una serie di manifestazioni e che quindi ha oneri e onori per questo quindi il Comune ci investe ma investendo vuole il ritorno comunque come si dice di partecipazione, di immagine e quello che è per il paese i ragazzi e comunque tutti i rioni si stanno impegnando sono molto soddisfatto del lavoro fatto lo lascio molto meglio di come l'ho trovato il Palio speriamo che chi mi segua e chi mi sostituirà farà altrettanto se non meglio Allora Biagio Sapatini è colui che ha ideato la costruzione dello standardo del Palio di Porto Ercole come nasce l'idea? L'idea è nata praticamente da Roncolini che è il delegato del Palio che siccome ci conosce da un po' di tempo sa che ogni tanto ho un vento scrivo fra l'altro e mi ha chiesto di trovare un soggetto per il Palio lì per lì mi era venuto uno piuttosto ludico qui a Porto Ercole tanti anni fa si faceva il volo della capra vabbè era ludico poi però parlando con lui ma poco mi è venuto a mente che io sto scrivendo una cosa dove parlo, cioè una storia vera dove parlo di un sacrificio 12 pescatori saltati su delle mine gente che lavorava per portere per loro dico e perché noi come nel Palio di Siena non ricordiamo anche i fatti importanti che riguardano questo paese e così praticamente è venuto fuori in un attimo l'ho fatto il progetto scritto e poi attraverso siccome io non so disegnare Ecco, chi sono gli esecutori? No, allora prima ho interessato per cavare dalle mie parole un qualcosa ho interessato una ragazza brava Francesca Bistazzoni che ha un difetto con la matita fa tutto e questo mi dispiace perché sono invidioso praticamente con quattro tratti ha cavato fuori l'idea che ho messo con le poi siamo andati in una tipografia e lì abbiamo cavato il bozzetto rispetto a quelle linee guida una volta cavato il bozzetto ci hanno presentato la pittrice che è di Porte Ercole chiaramente e lei ha trasposto quel bozzetto l'ha portato su una prima prova in pastello e poi ha fatto l'ha dipinto su tela e siamo contenti perché oggi diciamo nell'ambito di un'amministrazione che diciamo è abbastanza è un'amministrazione importante c'è degli anni però ecco cominciamo a parlare anche affidiamo a queste amministrazioni anche il ricordare Porte Ercole Allora Don Adorno siamo al momento del Palio c'è la benedizione dello Stendardo ma questo è importante la parte religiosa di una cosa cosiddetta pagana tutto quello che riguarda la popolazione la gente la voglia di fare che trova ovviamente non solo la benedizione del Signore ma anche tutto l'appoggio della Chiesa proprio perché noi non possiamo che incoraggiare manifestazioni dove c'è l'entusiasmo di tutti dove c'è la gioia e anche dove c'è la sana giusta competizione è un paese che partecipa a questa manifestazione ho detto fra pagana e religiosa oppure c'è un certo disinteresse il Palio indubbiamente non è a Portercole come a Porto Santo Stefano come a Siena ovviamente il Palio più grande però ha un suo seguito è seguito e soprattutto è un po' di anni che si tenta di rilanciarlo alla grande sono piccoli passi che si fanno Don Adorno noi sappiamo che lei è molto amata qual è diciamo così la motivazione in più per cui lei è così ben visto? No ti sbagli completamente No 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 assolutamente ho sentito la gente Io lavoro e basta cerco di dare il meglio di me anche perché il Signore non è che ci dà molti anni di vita ce ne dà pochi anche quando sono 100 sono comunque pochi bisogna cercare di spenderli bene e poi non so a me piace lavorare fare quindi star fermo ma annoio facilmente se non mi diverto non so contento quindi cerco di impegnarmi il più possibile vedo che la gente in questo mi capisce e mi segue State preparando anche la festa del patrono Sant'Erasmo che è un momento forse il più importante di tutto l'anno per quanto riguarda Porto Ercole Indubbiamente perché la devozione a Sant'Erasmo è molto sentita ovviamente c'è una componente di tradizione che ha tutta una sua valenza positiva ma anche tutta una sua delicatezza in se stessa per cui è una cosa che va curata noi cerchiamo dentro il fatto tradizionale di metterci il più possibile richiami al Vangelo soprattutto durante la processione con le riflessioni al microfono e poi guardate che tante cose non sono belle solo nel momento in cui si celebrano ma tutta la preparazione a volte vale più della cosa in se stessa per cui tenete presente questo scusate ora torniamo al palio ma lei per chi ti fa? per nessuno assolutamente eh no questo è troppo politico lo giuro perché io sono di Porto Santo Stefano a Santo Stefano lo so della croce bianco rosso dalla nascita qui ho assunto ho incontrato il palio di Portercole già nel ruolo di sacerdote di parroco per cui per me è veramente l'equidistanza ti dico sinceramente non faccio il tifo per nessuno allora benedica la croce perché ne ha bisogno per il prossimo palio sì no quello lo sanno lo sanno già tutti che la mia benedizione è con mani e piedi in quel caso qui a Portercole il mio tifo è per il palio per Portercole per la gente perché tutto riesca sempre al meglio come nasce questo premio? nasce dalla mia passione per la scrittura io ho scritto un libro il quarto Caravaggio ambientato a Porto Ercole e da lì nasce l'amore per la letteratura e la scrittura in genere l'associazione nasce a Roma ma ha profondi legami con il territorio avendo io abitato per 30 anni in Montargentario a Porto Ercole dunque ho legami profondi con questa terra anche se la mia origine insomma è romana ecco questo è un paese di poeti e di scrittori per Argentario 2018 com'è la partecipazione? la partecipazione è a livello nazionale veramente dal nord a sud molti giornalisti molti letterati scrittori proprio di mestiere e dunque è un concorso che sta crescendo qualitativamente sono più poeti o più scrittori? diciamo più poeti dunque è da ragionare questa cosa forse sono anche più bravi i poeti ma lei è una poetessa o una scrittrice? no io sono una una scrittrice che però diciamo è più una narratrice che una scrittrice ecco lo tengo a precisare comunque tutto questo è per il suo amore per Porto Ercole? si nasce tutto da questo motivo perché anche il mio libro è ambientato diciamo nel borgo antico di Porto Ercole nel 1600 dunque sono una storica io nasco come storica dell'urbanistica dunque diciamo è una mia amore mio amore ecco ho l'onore di aver vinto questo primo premio è un premio particolarmente significativo per me per cui ringrazio Montargentario innanzitutto perché una parte del romanzo è ambientata a Montargentario e ringrazio chiaramente l'organizzatrice Laura Pieroni ringrazio Dianora Tinti e le persone che mi hanno letto e valutato e soprattutto creduto in me quando hai cominciato a scrivere questo romanzo? questo romanzo l'ho cominciato a scrivere quattro anni fa però io in realtà scrivo da sempre perché io vengo da un 24 anni di lavoro in Mediaset come story editor e poi già scrivevo poesie fin da ragazzina e le pubblicavo con Roberto Roversi nella Tartana degli Influssi però per un grosso periodo di tempo ho svolto appunto un lavoro inerente alla scrittura ma più della scrittura degli altri che non della mia senza mai smettere di scrivere questo romanzo è molto importante per me perché è un romanzo mainstream un romanzo di formazione ovvero che nasce da una cosa di vita vera vissuta mia un'autobiografia in parte mia in parte ispirata alla vita della mia bisnonna con un plot narrativo assolutamente di invenzione ma comunque che è essenzialmente il fulcro della mia esistenza una parte particolarmente dolorosa della mia vita ma insomma che dà anche un senso di speranza a tutti quelli che hanno vissuto esperienze dolorose il premio è Argentario 2018 per una che diciamo così vive ad Orbetello quindi nei prezzi dell'Argentario cosa significa questo premio? io infatti è il secondo premio che vinco è il secondo a cui partecipo l'altro era un premio cattolico e questo devo dire mi ha reso particolarmente felice perché è un romanzo molto combattuto questo per chi l'ha letto sa a cosa mi riferisco e quindi essendo ambientato qui ha un valore ancora più forte perché è un valore di attaccamento a questa terra che anche dove io ho vissuto esperienze diciamo un po' dolorose familiari ma nello stesso tempo un grande amore per l'Argentario un grande amore per questa terra per il luogo che è per lo splendore che ci porta nelle nostre vite anche quando c'è sofferenza Gualtier della Monaca fa parte della giuria ovviamente di questo premio Argentario 2018 quanto è stato difficile scegliere? Eh come tutti gli anni quest'anno ancora di più perché i romanzi erano che ho letto erano tutti a un buon livello quindi non è stato facile metterli in riga per stabilire bene le posizioni però è un lavoro che ormai facciamo da tre anni con l'amico Enrico ci dà soddisfazione lo facciamo molto volentieri tanto che avete dovuto lavorare un bel po' perché ne sono arrivati tanti Sì sono arrivati tanti però ce ne siamo un po' anche un po' suddivisi tra poesie romanzi editi inediti insomma però è già due o tre mesi che ci lavoriamo non è da qualche settimana insomma ce ne è stato qualcuno che ti ha colpito sì ma c'è sempre non solo qualcuno che colpisce anche in quelli che colpiscono di meno comunque sia c'è sempre magari un capitolo un'idea un concetto apprezzabile quindi il bello della letturatura è proprio questo ognuno di noi poi ha qualcosa di importante da dire a volte cambia la forma in cui si dice questo può fare la differenza oltre 300 manoscritti il che vuol dire che questo premio sta crescendo a dismisura beh questo premio sta crescendo a dismisura come del resto sta crescendo a dismisura la quantità di coloro in Italia che scrivono vogliono esprimersi e che sottopongono spesso le loro opere a giurie come la nostra Gualtiere della Monica c'è una poesia che ti ha colpito in modo particolare guarda quest'anno devo dire la verità io le poesie non le ho curate ho curato la narrativa insieme a Enrico abbiamo letto i romanzi che sono arrivati soprattutto visto che c'è stata una prevalenza di polizieschi però di buon livello polizieschi è ambientati qui a Porto Ercole no 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 alcuni sì alcuni sono ambientati all'argentario hanno intrecci rimembranze di infanzia ma sono ambientati in tutto il mondo diciamo Enrico un lavoro lungo duro ma soddisfacente sì questi aggettivi che ho usato li sottoscrivo e aggiungo solo questa cosa sì come sempre quando si parla di libri grazie Grazie a tutti.